Al Taranto è mancato il cinismo nella quarta giornata di campionato, perde contro il Sorrento il primo match della stagione 2020-2021 per 2-1 lo stadio Erasmo Iacovone riaperto per l'occasione a mille spettatori, ce ne saranno un po' di meno nell'impianto sportivo ionico. Taranto che parte con il 4-2-3-1 contro il 3-4-1-2 del Sorrento, c'è Ferrara dal primo minuto a quadro sulla linea della tre quarti, Stracualursi in avanti. Al terzo minuto la prima azione con Laronica che sulla destra prova in diagonale dal vertice sinistro dell'area di rigore del Taranto, palla a lato sulla destra di Sposito. Il Taranto incomincia ad attaccare e soprattutto copre i margini di contropiede da parte della formazione campana, dodicesimo tiro dalla distanza di Lagzir, debole, facile, Scarano, blocca. Tredicesimo Sant'Arpia entra in aria e prova in diagonale, altro, ma al cento ci sarebbe stato Stracualursi per provare il tapin vincente. Arriviamo al trentaduesimo minuto con una punizione di Lagzir che cerca l'angolo basso, ma l'estremo difensore del Sorrento apri Guantoni ed evita la peggio. Trentaseiesimo la palla, rimbalza sulla banderina, sfera che viene recuperata da Matute, cross verso il centro dopo una ribattuta, tiro al volo di Lagzir di poco alto. Trentottesimo tiro dalla distanza, questa volta di Marsili, pallone a lato. Il Taranto potrebbe passare al quarantunesimo con un'occasione colossale. Lagzir infatti vede un corridoio dove c'è Stracualursi a tu per tu con Scarano, spara addosso l'estremo difensore ospite. Con le immagini passiamo al secondo tempo, all'ottavo, prova Stracualursi di testa, ma viene anticipato in corner. Al sedicesimo c'è uno squillo da parte del Sorrento con Kunzi, tiro al volo, palla di poco alta, ma il Sorrento pian piano guadagna il campo e passa al ventitresimo. Punizione dalla destra di Masullo, arriva Cacace di testa in sacca, Sorrento in vantaggio 1-0 allo Iacovone. Il gol però scuote il Taranto che carica con Marsili e Alfagheme. E al venticinquesimo arriva il Pari, sua azione d'angolo, Matute trova il tapin vincente. Taranto 1, Sorrento 1. Ionici che potrebbero andare in vantaggio alla mezz'ora a quadro, libero in aria il destro, ma la palla non gira. E al trentaduesimo allora il gol vittorio lo trova il Sorrento. Liccardi e anche lui libero dal limite dell'area di rigore, riesce sì a far girare il pallone nel sette. Alla sinistra disposito Sorrento 2, Taranto 1. Resta il dubbio al quarantaduesimo per un tocco di mano in area di rigore che poteva favorire un rigore in favore del Taranto. Il Taranto cade per la prima volta in questa stagione e domenica prossima andrà Casarano.